Micael è il Festival del Patrimonio Culturale e Spirituale, naturale e non gastronomico. Sono i quattro segmenti turistici su cui si basa la strategia di Monte Sant'Angelo. Nasce nel 2018, sei anni fa, per unire i centri micaelici in Europa e nel mondo e per richiedere al Consiglio d'Europa il riconoscimento come itinerario culturale. E questo succede dopo solo pochi anni, l'11 maggio a Lussemburgo si discute il dossier della via Micaelica e qualora dovesse essere accettato dal Consiglio d'Europa cambierebbe la storia di questo territorio intero, di Monte Sant'Angelo del Gargano e dell'intera pubblica.